Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. Allora, 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 cari signori, cari signori, cari signori, preparatevi perché questa sera parliamo di una delle cose più grandi, grosse, brutte e cazzute della seconda guerra mondiale perché, signore e signori, parliamo di questo simpatico bestione qua. Ebbene sì, proprio lui, il carro armato sovietico Josef Stalin II, il JS2, uno dei più grossi carri armati entrati in servizio durante la seconda guerra mondiale, uno dei più grossi carri armati sovietici entrati in servizio durante la grande guerra patriottica, sicuramente uno dei mezzi che meglio poteva contrastare i super felini tedeschi, soprattutto il Königstiger. Allora, la famiglia dei corazzati Stalin, ah, scusate signori, dimenticavo, la fonte, la fonte, è il sesto volume della seconda guerra mondiale di Arrigo Petacco, edizioni Curcio. Ripeto, le schede tecniche non è che cambiano, il carro armato, quello è, quello rimane, le sue prestazioni, il suo armamento, quelli erano, quelli sono tuttora, chiaro, anche se la fonte è datata, ok? Allora, dicevo, allora, signori, questo pachiderma, questo bestione, questo bellissimo ciabattone corazzato sovietico, derivava dalla serie KV, discendeva in linea diretta dai pachidermici carri KV, che dopo aver dato buona prova di se stessi nei primi tempi di guerra, erano subito passati in seconda linea, non appena i tedeschi erano riusciti a inquadrare i loro difetti, in realtà piuttosto numerosi, perché la serie KV aveva grossi problemi di affidabilità, erano, come dire, lenti, pesanti, vulnerabili in determinate condizioni e soprattutto il KV2 erano decisamente poco stabili, perché tendevano a ribaltarsi nella marcia fuoristrada, ma ne parlerò in un altro video, dicevo, allora, l'ingegner Cotin, perciò, aveva elaborato un nuovo carro che, partendo dallo scafo e dalla meccanica del KV, era stato dotato di una nuova torretta che montava l'ottimo pezzo da 85 mm, oggettivamente uno dei migliori anticarro sovietici, uno dei migliori cannoni da carri armato della storia. Allora, inoltre, le sospensioni dei KV, di questi mezzi derivati dal KV, erano state migliorate e il motore potenziato. Verrà sostituito da un nuovo tipo, nel 1944, che verrà dotato di un cannone da 100 mm. Ma nonostante tutto, questo nuovo mezzo non sarà ancora all'altezza delle aspettative del suo progettista, perché il suo progettista voleva fare le cose in grande e in grosso, e soprattutto dare una lezione ai tigre, ai panther e ai Königstiger. Allora, dicevo, entrerà in servizio un nuovo tipo di carri armato col cannone da 100 mm, e l'ingegner Cotin si rimetterà comunque sia al lavoro, rielaborando il progetto, sino a che nella metà del 1944 non vedrà la luce il JS2. Eccolo qui, armato con lo spettacolare pezzo da 122 mm. Insomma, un bel bestione. Questo carro, che si rivelerà essere un ottimo compromesso tra potenza motrice, corazzatura e armamento, sarà in assoluto il miglior corazzato russo e sicuramente uno dei migliori costruiti durante tutta la guerra. A riprova di questa affermazione abbiamo il fatto che la sua formula, debitamente aggiornata, ha influenzato per moltissimi anni la produzione dei carri da combattimento sovietici e di conseguenza di tutto il blocco orientale. Costruttivamente lo Stalin era un carro con lo scafo ricavato parte per fusione e parte per saldatura. Le sue piastre erano particolarmente studiate per offrire superfici inclinate o arrotondate ai proiettili in arrivo. Il motore era un V2 JS o V2K diesel, 12 cilindri a V da 520 cavalli, che era in grado di far raggiungere al carro la velocità su strada di 37 km orari, il che, considerato il peso superiore alle 40 tonnellate, non era cosa da poco. Alcuni inconvenienti si ebbero con lo stivaggio del munizionamento, che essendo per il pezzo da 122 di tipo a carica e proietto separati, fu necessariamente limitato. Infatti all'interno dello scafo trovavano posto soltanto 28 colpi completi da 122 per il cannone da 122 e l'unico che potesse competere, insomma il cannone da 122 era però oggettivamente l'unico che potesse competere con le superlative corazzature del Königstiger, del tigre reale. Del carro Stalin che rimarrà in servizio nell'armata rossa sino al 1954, deriveranno molti altri tipi, dai semoventi convenzionali ai più moderni carri lanciamissili. Pare comunque che la sua ultima apparizione operativa sia stata dopo una sfortunata apparizione nel teatro del Medio Oriente durante le guerre arabo-israeliane, dicevo, l'ultima volta in cui lo Stalin fu visto in azione fu l'invasione della cecoslovacchia nel 1968. Insomma lo Stalin II, ripeto eccolo qui, un bestione da 40 tonnellate, anzi da 46 tonnellate scusate, lungo 9 metri e 80, largo poco più di 3 metri, alto 2 metri e 70, con una protezione massima di corazzatura di 120 millimetri. Mazzarola, niente male, ripeto, il motore diesel, un V2JS V2K da 520 cavalli, lo spingeva, ripeto, a 37 km orari su strada e a circa 20 km orari su terreno vario fuori strada. 240 km di autonomia su strada, 210 su terreno vario, 4 uomini di equipaggio, il cannone da 122 come armamento principale, 3 mitragliatrici da 7,62 mm e una da 12,7 in funzione antiaerea sul cielo della torretta del capocarro. Due metri e mezzo circa di trincea superabile, un metro di gradino superabile e una pendenza massima di 36 gradi e un guado di circa un metro e trenta. Insomma un mezzo che nel 1944 era probabilmente quanto di meglio gli alleati sia occidentali, insomma i russi e gli alleati occidentali quanto di meglio potessero mettere in servizio contro i super carri armati tedeschi. Un mezzo estremamente rustico, un mezzo estremamente affidabile e versatile, è stato un mezzo longevo decisamente. Ha dato molto 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 filo da torcere ai tigre e ai Königstiger e ai Panther russi e il difetto, ripeto, questa scarsa scorta di munizioni che poteva trasportare perché essendo il cannone da 122 mm con la carica di lancio separata dal proiettile questo costringeva a caricare soltanto 28 colpi. Un'abitabilità, quella dello Stalin II, decisamente scarsa. L'equipaggio era molto sacrificato perché gli spazi a bordo erano piuttosto angusti e l'ergonomia, come in tutti i carri sovietici, lasciava decisamente a desiderare. Però, ripeto, lo Stalin II fu un carro eccezionale per potenza e per facilità d'uso, diciamoci la verità. Forse fu il primo vero main battle tank concepito, forse. Perché ricordiamoci una cosa, in tanti non pensano una cosa. I mezzi corazzati, i carri armati, devono essere fondamentalmente delle armi, dei sistemi d'arma di compromesso. Compromesso tra la potenza del motore, la resistenza e la pesantezza della corazzatura e la potenza del cannone. Ok? È un compromesso essenzialmente tra questi tre fattori. E in più ricordatevi una cosa, ricordatevi una cosa. L'amico Enzo Maio ha una massima a proposito dei carri armati che dice il cannone vale molto più del carro, il proiettile vale molto più del cannone. A simboleggiare l'importanza dell'equilibrio tra le varie componenti. I russi avevano curato l'equilibrio e il compromesso tra le varie componenti. Corazzatura adeguata, motore potente, cannone di più. Ok? Che, diciamo, questa concezione decisamente moderna dello Stalin II è arrivata, si può dire, praticamente fino ai giorni nostri. Lo Stalin II, mettiamola così, fu molto probabilmente il primo vero carro di concezione moderna prodotto durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi, oggettivamente, che fosse spesso, troppo grosso, troppo massiccio, estremamente scomodo per l'equipaggio, estremamente sacrificato per l'equipaggio e soprattutto con il problema dei proiettili del cannone a carica separata, questo qui era, insomma, erano difetti seri ma che poi vennero risolti in seguito nel corso degli anni con i suoi successori. Insomma, signori, Josef Stalin II, il bestione, il gigante dell'armata rossa, il contraltare perfetto per il Königstiger, che rispetto e rispetto al Königstiger era comunque sia un mezzo più affidabile, più potente, più veloce, meno fragile e decisamente più usabile. Tutto qua. Quindi, come sempre, io aspetto le vostre considerazioni, le vostre aggiunte a questo video e, come sempre, cari signori, di nuovo arrivederci al mio prossimo video. Ciao!